Ciao stronzettini, infradittini ninini, ascellatini ninini, ma come state? Bene! Bene? Bene! Sì! Sì! Ma che c'avete da guardà? Volete litigà? No! Sì! No! 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 Volete gioca? Sì! Sì! Siete in vacanza e non c'avete una mazza da fa? Sì! Ok, famo il gioco! Famo il gioco! Il gioco di oggi è... Indovina di che colore c'ha i peli del pisello Giuseppe? Sì! È il gioco! Dai su 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 dai 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 ok giù il gettone giù il gettone! Adesso Giuseppe se sposta il costume e veo fa vedere! Vai Giuseppe! Vai 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 vai! Si vai a Fanku! Ah che ride! Allora? Allora? Dai fallo vedere! Ecco qua! Ok! Ha visto? Vi ricordo che oggi si vince una tuta da scinti e gli scarponi! Bene! E che colore è? Biondi! Che hai detto? Tinti! Hai detto biondi? Sì! Naturale o tinto? Tinto! Ai 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 è sbagliato! Mi dispiace! Che peccato! Eri pure una bella gnocca e potevamo darte due botte! A voi la linea da Siri!